Il primo è ridurre la maternità ad un ruolo sociale, ad un compito anche se nobile, ma anche di fatto mette in disparte la donna con le sue potenzialità, non la valorizza pienamente nella costruzione della comunità, questo sia in ambito civile sia in ambito ecclesiale. E come reazione a questo c'è l'altro pericolo, in senso opposto, quello di promuovere una specie di emancipazione che per occupare gli spazi sottratti dal maschile abbandona il femminile con i tratti preziosi che lo caratterizzano. E qui vorrei sottolineare come la donna abbia una sensibilità particolare per le cose di Dio, soprattutto nell'aiutarci a comprendere la misericordia, la tenerezza e l'amore che Dio ha per noi. La Biblioteca di Dio è una affermazione di quattro, la doctrine e la common sensazione riguarda le differenze tra i uomini e le donne, e ancora la igualità in quei differenze, regarding what this requires from society and governments and spouses, right, toward their wives and boyfriends toward their girlfriends and fathers toward their daughters. Really, the Church has been quite revolutionary on this, particularly from the papacy of John Paul II forward. It has a lot to offer, but one of the things we're discussing at this meeting is how our witnessing, our testifying, and our communicating on this needs, as Pope Francis is beautifully suggesting, to go over the wall and to be more in the public consciousness. And he is making that space for us. Thank you.